Amici di Dona Libera TV, siamo a Sant'Ippolito, anzi nella biblioteca di Sant'Ippolito, alla Biblios, una bellissima struttura moderna, nella quale c'è la presentazione del libro di Francesca Tombari, avrei voluto parlare d'amore, un libro scritto nel 2010, ma premiato, primo classificato nel premio letterario Due Vittorie 2012. Allora, come prima domanda, facciamo a Francesca Tombari, qui sembra che il destino ci abbia messo lo zampino. Sì, praticamente tutta la storia è stato un destino, nel senso che è stata scritta perché casualmente sono caduta sulla lapide della protagonista del romanzo. Il destino ha voluto che i miei acquistassero la casa dove si svolge tutta la storia e il destino ha voluto che incontrassi l'amica del cuore della protagonista che mi ha raccontato la storia, mi ha raccontato di come era realmente Gigia la protagonista, mi ha raccontato gli ultimi attimi della vita di Gigia. Quindi il destino è stato fondamentale, diciamo, nello svolgimento della storia e del mio raccontarla. Ha incastrato una situazione molto complessa per dare voce a due giovani donne che purtroppo decedute in seguito a delle angherie, possiamo dire così. Sì, l'ho fortemente voluta. È una storia che mi sono incapponita nel volerla scrivere, nonostante me l'avessero quasi proibito. Era una storia di cui non si doveva parlare, una storia che mi si diceva ormai era passata, queste due donne avevano subito quello che avevano subito e basta, doveva essere chiusa lì. E io ho detto no. Ho detto no perché non mi sembrava giusto, non mi sembrava giusto il fatto che io casualmente avessi scoperto della loro vita e non avessi la possibilità di parlarne. E così ho ricercato in tutti i modi il modo di ricostruire la loro storia, di arrivare alla verità. Non è stato facile, non è stato facile anche perché ritrovare anche i documenti storici, perché sono andata a fondo, non è che sono rimasta in superficie. Però ecco, anche qui il destino ha giocato a mio favore facendomi ricostruire e rimettere a posto tutti i tasselli della storia. Immagino che avrei dovuto scoperchiare delle pentole che molti pensavano di aver chiuso definitivamente. Sì, sì. Infatti in un cimitero un prete mi ha detto devi stare zitta, non ne devi parlare più. E quando lui mi ha detto così è stato lì, che proprio la molla ha detto ah no, ne parlo e ne parlo. E il libro ecco è nato. Per fortuna direi, perché anche se la vicenda sembra distante da noi perché è ambientato tra le due guerre mondiali, più magari verso l'inizio del fascismo probabilmente, se non vado errato. Per cui uno potrebbe dire, va bene, ormai è una storia superata. Invece penso che sia opportuno aver pubblicato un libro di questo tipo perché purtroppo stiamo vivendo nuovamente una vicenda in cui le donne principalmente sono oggetto di violenza. Per cui penso che sia invece molto opportuno e doveroso parlare di queste cose. Infatti è anche uno dei motivi per cui io l'ho scritto. Perché si dice la condizione della donna, cioè nel quotidiano vediamo l'abuso della donna e il angherie eccetera. Io ho voluto raccontare una storia di tanto tempo fa, cento anni fa, poi non tantissimo, ma comunque di tanto tempo fa in una condizione molto diversa da quella attuale e di voler far riflettere chi legge il romanzo e fargli capire che in fin dei conti l'uomo nel passaggio, nello scorrere del tempo è migliorato ma poi non di tanto. A piccoli passi diciamo. A piccoli passi, a piccoli passi. Bene, questo non è l'unico romanzo scritto da Francesca Tombari, in quanto ho letto che c'è un ebook, se non sbaglio, pubblicato, poi ha pubblicato delle poesie e mi dice che ha già diversi romanzi già pronti. Sì. A quanto la pubblicazione? Ci farai leggere nuovamente storie così belle? Non lo so, quando sarà pubblicato non lo so. Quando il romanzo che vorrei pubblicare, ce n'è uno in particolare che vorrei pubblicare, che è anche questa una storia difficile, molto difficile, è una storia che nel quotidiano se ne sente parlare molto, che è la condizione dei transessuali. La storia è vera, è la storia che mi ha raccontato una mia amica, che si è operata e quindi ora è donna a tutti gli effetti, ed è molto diversa da tutto quello che invece viene sbattuto sui giornali o in televisione, di transessuali che vivono solo nel mal di vivere, diciamo, e in realtà non è così. Speronemente abbinati sempre al vizio in genere. Al vizio, esatto, e non è affatto così. Il mio vuole essere invece un parlare del quotidiano, della vita reale di una persona che si trova in un corpo che non è suo. E quindi la difficoltà del vivere nel quotidiano. Bene, il discorso è talmente interessante che non vorrei smettere, però adesso liberiamo Francesca, ha già avuto una serata impegnativa con la presentazione del libro. E niente, la salutiamo, la ringraziamo per questo bel libro, per la sua sincerità e per il suo coraggio. Grazie. Grazie mille, grazie a tutti. Amici di Onda Libera, un saluto. Grazie mille, grazie a tutti.